Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Build. Oggi si parla di Scala N. Tenetevi forti perché sto per farvi vedere il progetto che realizzeremo insieme in questo video sulla Scala N utilizzando materiale Trix. Ma prima di cominciare ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina, lasciate un like se questo video vi sarà piaciuto e soprattutto condividete questo video sui vostri social. Ragazzi, partiamo subito a vedere che cosa dobbiamo fare in questo video. Ho preparato il software AnyRail, se volete installarlo anche voi fatelo, vi lascio il link in descrizione per poterlo fare. Vi ricordo che è un software a pagamento ma vi dà la possibilità di scaricare la versione demo dove potete provare alcune cosine molto limitate e poi decidere di comprarlo. Costa pochissimo, ma è molto bello e molto utile. Di solito ragazzi vi ho fatto vedere in altri video come lavorare con i binari Pico. In questo caso ragazzi, oggi lavoreremo per la prima volta sui binari Trix. Allora andiamo nella libreria dei binari, andiamo nella scala N e andiamo a prendere Trix. Eccola qua ragazzi, il cosiddetto Mini Trix. Qua sulla sinistra ci appare tutta la tabella con tutti i binari della sezione Mini Trix che trovate nel catalogo Mini Trix, potete andare anche sul sito. Ovviamente ragazzi in questo video mi occuperò di farvi vedere il tracciato e andremo a vedere come viene in 3D, quindi vi farò vedere proprio un'anteprima di come verrà il nostro plastico. Voi vi starete chiedendo dove farò questo plastico, in un precedente video che trovate nella playlist Scala N ho fatto vedere come ho sfruttato la parte di polistirolo che volevo utilizzare nel plastico a Shet facendola diventare appunto una tavola di 149%, quindi abbiamo uno spazio, mettiamolo anche qua nell'impostazione, vedete è già pronto, 149%, quindi questo rettangolo bianco che vedete davanti a voi in questo momento rappresenta proprio lo spazio che io ho utile per poter fare questo plastico in Scala N ho scelto questo proprio per non sprecare quello che avevo già fatto, quindi siccome non ho proseguito con il plastico della Shet ho deciso di sfruttare quel rettangolo di polistirolo che poi andrò a bordare con delle cornici in legno per dargli un po' più di robustezza per fare finalmente il nostro plastico in Scala N quindi stiamo per cominciare a farlo, ho scelto di farlo con materiale mini tricks perché appunto nel video non so se l'avete visto, andatela a vedere, trovate il link qua sotto vi ho fatto vedere che fortunatamente ho trovato in magazzino degli avanzi del vecchio negozio di una scatola piena di flessibili tricks e quindi ovviamente sapete che io amo lavorare con i flessibili e ho deciso di farlo appunto proseguendo con questa scala ovviamente ci mancherà tutta la parte degli scambi che tra poco vedremo e quella dovremo comprarla infatti ho un'idea, dopo questo video, una volta realizzata questo piano di lavoro che stiamo per fare questa parte della struttura dell'armamento del plastico vi farò un video di quanto spenderemo per fare questo plastico così da poter far sì che qualcuno di voi, magari se c'è tra di voi un compratore qualcuno che vuole sponsorizzare o addirittura comprarsi questo plastico che sto per fare e lo potrà fare decidendo anche di poter fare una modifica all'interno di questo impianto quindi se c'è un compratore ragazzi si faccia avanti a proposito di compratori ho attivato da pochi giorni state vedendo adesso scorrere sulla sinistra la situa di questo momento ho già tre sponsor che ringrazio veramente grazie a questi tre amici che hanno fatto un piccolo contributo se volete potete farlo anche voi, si chiama Crown Funding praticamente è una sorta di donazione da parte vostra per collaborare all'acquisto di questo starset che vedete della Pico che compreremo per fare degli ampliamenti all'interno di questo canale facendovi vedere tutte le novità del momento del mondo del digitale e tante altre cose bellissime quindi se volete collaborare schiacciate sotto qui anche un contributo di 1 euro 50 centesimi, 2 euro, quello che volete sapete benissimo che in poco tempo arriveremo alla somma che dovremmo raggiungere i 249 euro e ovviamente faremo questa cosa quindi è molto gradita per il mio canale anche in questo caso di questo plastico se c'è un compratore si faccia avanti lo metta qua sotto nei commenti ma ora ragazzi basta chiacchiere partiamo subito alla costruzione di questo impianto e state ben attenti se volete farmi delle domande mettetelo nei commenti perché magari io adesso vado un po' tirato ok non mi fermo perché ho un botto di roba da fare quindi vi lascio alla schermata grande io mi tolgo sentirete solo la mia voce in modo che potete concentrarvi solamente a guardare quello che sto facendo su questo impianto partiamo ragazzi 3, 2, 1, let's go ok andiamo ad ingrandire qua di fianco la tabella di tutti i binari della MiniTrix sarebbe la scala N della Trix la Trix sarebbe la corrente continua della Marklin quindi vabbè poi di questo ne parleremo in seguito scala N in questo caso ci offre delle geometrie veramente differenti dalla scala H0 soprattutto con quella Pico con cui siete abituati a conoscermi scala N in questo caso offre veramente delle geometrie incredibili incredibili cioè per farvi capire avete la possibilità di fare addirittura che ne so gli R6 guardate questo è un R6 giusto per farvi capire se crea un elicoidale quindi un cerchio addirittura siamo poco fuori i 149 cm ok quindi avete un raggio di apertura veramente grande ma per farvi capire che anche con un R4 ci state dentro alla grande quindi guardate R4 guardate avete veramente uno spazio enorme potete giocare tantissimo in poco spazio quindi in uno spazio di 149 cm per cento quindi abbiamo veramente tanta roba da poter fare ma ora cominciamo finalmente ragazzi basta chiacchiere non mi dilungo più lo giuro allora partiamo dalla parte bassa della stazione allora il 14901 è il famoso flessibile che io utilizzo per fare gli impianti e questo ovviamente lo useremo spesso ma per facilitare l'operazione di questo tracciato e per coloro che magari vorrebbero imitarlo e non sono dei grandi professionisti del settore in questo caso utilizzerò i binari standard che poi dopo ovviamente io sostituirò con i flessibili cioè vi faccio capire ora utilizzerò sicuramente delle curve con dei codici specifici che trovate in commercio e che nel prossimo video andremo a vedere anche il loro prezzo faremo proprio una sorta di controllo di quanto spenderemo per questo plastico ma poi ovviamente vi farò vedere che sostituendolo con i flessibili cosa che non è facile per tutti andrete ad abbattere i costi circa del 40% però adesso andiamo avanti ragazzi allora mi sono preparato questo perché è utile a quello che io devo fare ma per adesso lo lascio lì ok cominciamo con gli scambi il 14938 è lo scambio eccolo qui dove lo troviamo il 14938 è questo scambio lo scambio sinistro ok manuale poi prendiamo un altro 14938 lo ribaltiamo al contrario e otteniamo già il passaggio tra una linea e l'altra ok poi compensiamo con un 14904 da questa parte ok e un altro 14904 da quest'altra perfetto ragazzi e qua abbiamo già ottenuto diciamo la parte di entrata in stazione ok raga allora siamo un po' stortini ma si addrizzerà piano piano mentre andiamo avanti ok ragazzi ora andiamo ad aggiungere la parte diciamo di curvatura sul lato sinistro partiamo con la parte esterna che è quella che ci interessa di più in questo caso per definire l'area totale di spazio che abbiamo per lavorare su questo impianto straordinario in scala n allora il 14927 è il binario curvo che ho scelto da utilizzare in questo plastico trattasi appunto di una curva 36,26 con un'angolazione di 15 gradi sarebbe un R4 ok con questo abbiamo la possibilità di fare circolare treni ad alta velocità senza alcun problema senza problemi di deragliamento eccetera di questi ce ne servono un botto perché dobbiamo arrivare quasi a metà del plastico ok guarda iniziamo a metterli ne metto un bel po' dentro e li andiamo ad aggiuntare tutti ok guardate una cosa veramente fighissima farlo e con una certa velocità riusciamo già ad arrivare alla parte ecco quella la parte che mi interessava era proprio questo qui manteniamo le distanze dai bordi del plastico lasciando a meno quei 3-4 cm che ci permettono per eventualmente costruire delle pareti delle gallerie e via discorrendo allora il 14-904 ne mettiamo un altro di qua e andiamo dritti ce ne vogliono almeno 2 sì almeno 2 14-904 perfetto vedete che adesso io grazie a questa cosa comincio ad avere diciamo già l'idea di quanto deve essere messo eccolo così abbiamo già il plastico più dritto dall'altra parte andiamo avanti ancora con i 14-927 ok ragazzi ce ne vogliono ancora un pochino anche di qua ok 1 2 spostiamo un attimo 3 4 5 e 6 perfetto notate che con 6 binari otteniamo un quarto di cerchio ok quindi 12 binari in mezzo cerchio 24 binari un cerchio totale siamo arrivati esattamente dall'altra parte ok io proseguirei con i 14-904 anche da questa parte e gliene mettiamo almeno almeno dunque fammi ragionare proseguiamo a metterlo poi vedremo piano piano mettiamone altri due così più o meno arriviamo a metà del plastico per renderci conto ok perfetto così già mi piace ok ragazzi qua stiamo lavorando vi ricordo per chi conosce Anyrail stiamo lavorando sul livello 1 poi dopo aggiungeremo il livello 2 perché questo plastico è su due livelli la cosa figa di questo plastico è quella che tra poco vi accorgerete è che l'ho pensato proprio su due livelli per creare una certa profondità e un lavoro in più per quanto riguarda la parte di manovra che si svolge proprio esattamente nella parte del secondo livello allora adesso andiamo avanti ancora da questa parte sempre ragazzi così cominciamo a vedere quello che ci serve per proseguire quindi abbiamo in questo caso l'R3 che è il 14-917 esatto da 15 gradi questo è quello che appunto compensa la curvatura interna di questa di questa zona ok e anche qui ne mettiamo 2 3 4 5 e 6 perfetto siamo arrivati più o meno qui esattamente ora a questo punto qui qui ho un'idea di creare uno scambio che porta avanti per andare ancora in linea e poi diciamo una deviazione a destra per andare a finire nella parte superiore ma questo lo vediamo tra poco ragazzi io direi di andare avanti ancora in alto qua sopra mettendo allora il 14-900 allora ragazzi ovviamente ragazzi io questo impianto vado così veloce perché l'ho già fatto ora ve lo sto rifacendo per farvi vedere come ho fatto come ho utilizzato le cose per farlo ci ho messo quasi una giornata perché ovviamente ci sono errori cose che non volevi alcune parti che non mi piacevano le ho rifatte finché poi sono arrivato alla diciamo definizione totale di quello che volevo e quindi l'ho memorizzato l'ho scaricato e ora io sto guardando la piantina che ho creato per rifarlo e farvelo vedere quindi so già i binari che devo mettere ma vi posso garantire che in fase di creazione iniziale quando sono partito da zero vi posso garantire che a volte ho perso un sacco di tempo e ho rifatto molte volte alcuni punti che non mi piacevano ok allora ora mettiamo il 14-905 che va a compensare ok e poi mi servono altri 2-14-904 1 e 2 li mettiamo qui e così sono sicuro di aver creato togliamoli che ci danno solo fastidio esatto ora siamo arrivati in questo punto qui e ora abbiamo il 14-927 quello di prima ne abbiamo ancora da prendere esattamente 6 per creare un semi un quarto di cerchio ok ecco così cominciamo a definire bene dove arriva vedete così è calcolato proprio per arrivare all'estremità destra del plastico rimanendo sempre staccato dal bordo di almeno 3-4 cm circa ecco qua ora abbiamo una diciamo esatta visione di quello che è l'impianto esterno altri 2 14-904 1 e 2 li mettiamo qui perfetto e poi andiamo ancora col 14-927 ce ne vogliono ancora 6 1 2 3 4 5 6 perfetto lo chiamo qui andiamo avanti a metterli finché arriviamo esattamente alla parte bassa qua siamo nella zona stazione ok nella prima stazione bassa ok qui abbiamo bisogno del 14-905 ok e poi abbiamo bisogno dello scambio 14-939 che sarebbe l'opposto di questo che andiamo a metterlo esattamente qui me ne servono 2 uno girato così e l'altro dall'altra parte perfetto ragazzi guardate è molto figo allora il 14-904 va a compensare qua sotto e qui siccome siamo con una situazione diciamo fuori dalla misura standard vado a compensare con il mio flessibile che tanto io comunque userò flessibili ovunque quindi il problema non sussiste invece voi se volete lavorarlo meglio qua potrete divertirvi con il 14-904 e il 14-903 facendo dei piccoli compensi ma comunque seguite quello che vi dico che viene semplicissimo e comodissimo ok qua abbiamo bloccato la stazione e questo ora ci permette appunto di avere un impianto bloccato siamo sempre sul primo livello e finalmente possiamo andare avanti con la creazione della zona interna diciamo qui abbiamo una stazione come potete vedere che permette di poter passare da una linea all'altra seguendo la direzione di marcia il treno viaggia verso sinistra il treno proveniente da questo binario esterno può andare dritto e può anche entrare in questa parte ok perché dopo potrà proseguire e girare scambiare di qua proprio dove c'è lo scambio 14-939 che è questo qua vedete oh qui finalmente entriamo in un'altra zona ok io mi fermerei qui dove c'è appunto questo scambio lascerei un attimo qui in sospeso e proseguirei da quest'altra parte il 14-938 che è il prossimo scambio andiamo a metterlo qui ok perché anche qui sarebbe appunto da qui a qui c'è appunto l'anello di chiusura dell'impianto che va a finire nel livello superiore quindi stiamo già preparando l'entrata e l'uscita o l'uscita e l'entrata come volete in base alla direzione di marcia lo pensate come volete voi chiudiamo questa parte con il 14-905 allora me ne serve uno da mettere qui ok e facciamo la chiusura con il 14-917 quindi prendiamo un po' di 14-917 ce li prepariamo qui e andiamo a chiudere questa sezione così cominciamo a vedere almeno il lato esterno e la parte del diciamo del livello 1 conclusa quindi avanti tutta e siamo arrivati qui perfetto abbiamo bisogno di 2-14-904 me ne servono ancora 2 e li mettiamo qui 1 e 2 e poi andiamo avanti ancora con 14-917 questo qui dobbiamo chiudere ok quindi 14-917 ne aggiungiamo altri 5 e andiamo a chiudere questa parte qua a questo punto ragazzi come potete vedere stiamo per arrivare dall'altra parte alla metà del plastico ci troviamo diciamo in linea qua mettiamo il 14-904 ce ne servono circa 2 ok 1 e 2 ok poi abbiamo 14-905 qui si era creato uno scompenso e poi ancora il 14-904 fino ad arrivare in fondo praticamente ok ragazzi mettiamo qui 1 2 e 3 perfetto a questo punto con 14-917 scendiamo a chiudere l'impianto ok ce ne manca un altro ancora e qua chiudiamo l'impianto con un flessibilino perché siamo fuori misura ma questo non creerà nessun problema ok potete divertirvi col 14-903 ripetuto due volte ok basta che fate la misura del taglio allora qui abbiamo concluso a parte diciamo del livello 1 e vedete da soli che è un semplice giro classico tipico degli star set per esempio fatta eccezione di questi due scambi aggiuntivi ok quindi se noi andassimo a togliere questi due scambi avremmo praticamente un cerchio ok un ovale classico con stazione che vi permette di entrare in una linea all'altra facendo il cambio di marcia ora finalmente cominciamo a vedere invece la parte che ci porta nel livello superiore io comincerei dal lato destro col 14-910 che è un un R2A in questo caso perché di R2 ne fanno di varie tipologie con angolazioni diverse io ho provato 14-910 mettendoli in questo modo ora io vi sto facendo vedere la parte tracking di quello che sto facendo poi ci sarà da sistemare tutta la parte ovviamente delle pendenze e delle percentuali di appunto di salita e discesa dove ci sono appunto gallerie eccetera ok allora andiamo a metterlo di qua ecco qui ovviamente stiamo cominciando a salire di livello ok quindi a questo punto io metterei in questo punto qua un isolatore ok aggiungo un isolatore per dividere le zone e andrei a lavorare sul secondo livello quindi aggiungo il livello vedete l'ho messo qui ora stiamo lavorando sul secondo livello questo cosa comporta che tutto quello che facciamo nel primo rimane bloccato nel primo e quello che facciamo nel secondo idem e quindi se io vado a togliere un livello vedete rendo invisibile il livello 1 e vedrò visibile solo il 2 in questo caso appunto lavorando sul 2 il prossimo binario che andrò a mettere mettiamo caso questo flessibile vedete che adesso voi lo vedete qui appoggiato mettiamolo qua un attimino per farvi capire se io oscuro il livello 1 vedremo solo il flessibile ok tutto solo per farvi vedere ok togliamo questo e andiamo avanti allora adesso dobbiamo appunto salire di livello e salire di livello si intende che andremo a sovrapporre su questi binari ok quindi in questo caso abbiamo bisogno di stabilire la zona della stazione che io costruisco sul secondo livello ok quindi 14904 è il binario che devo mettere più o meno qui più o meno da questa parte che è quello che ci consente di andare a salire sopra dobbiamo crearci ora una situazione qua ovviamente io l'ho immaginata e l'ho creata e poi prepariamo dei 14910 che come apertura siamo R2A come quelli di prima ne prepariamo a meno 8 quindi 2 3 4 5 6 7 8 cosicché da creare appunto questo cerchio famoso che ci permetterà di salire di livello per salire di livello ovviamente noi dovremmo andare a creare delle misure in percentuale all'interno dell'impianto si fa qua vedete in posta in questo caso se io metto 6 io ho impostato un'altezza 6 e dovrò farlo per tutti ok ovviamente per evitare di farlo 1 a 1 potrei fare delle sezioni e crearli facendo un blocco unico però in questo caso io lo faccio così perché sono tutte misure differenti una dall'altra ok questo lo potete fare anche voi e questo vi farà adesso vi faccio vedere che cosa cambia vedendolo in 3d a differenza magari di quello che c'è nel livello 1 se ora io prendo questa parte questa è stata creata proprio per capire se io posso sovrappormi a questa ok ok qui è il punto dove devo andare a lavorare facendo che allora giriamolo in un modo ok che accoglie ok questo deve accogliere il binario questo qua che sto creando qua ok ecco qua a questo punto se io vado in 3d dovremmo vedere esattamente vedete la parte bassa del tracciato e qua si sta creando una parte alta che va appunto a interporsi da quella bassa da livello 1 ok questo ci permetterà poi di capire di creare poi tutti i sezionamenti sotto di dove devo andare a creare le gallerie ma lo vedremo tra poco ok quindi a questo punto ho creato questa situazione quindi lo giro come voglio mettendolo in direzione favorevole all'arrivo di questo ok e qui ovviamente mi aiuterò con magari dei binari flessibili che mi vengono utilissimi ok infatti io qua prendo il binario flessibile io lo metto qua e vado a agganciarmi ok posso lavorarlo posso addolcirlo come voglio ok poi abbiamo il 14939 da mettere esattamente qui perché questa zona qui adesso io questa zona qua la creo una sezione di un colore diverso esatto il livello 2 oscuro il livello 1 vedete ecco però comunque adesso per chiarire le cose come stanno ovviamente tutti questi dovranno avere un'altezza da 6 vedete ora lo fai in automatico perché io gli sto aggiungendo ok qua abbiamo il 14904 e qua abbiamo il 14927 che è il compensativo del classico dello scambio ok quello che vi permette di tornare in interlinea con con l'impianto è però prima del 14927 mi stavo dimenticando che ci vuole il 14903 che è un piccolo binario compensativo ok e poi il 14927 questo vi permette di avere la linea classica della stazione della fermata a differenza di pico che ragiona diversamente ora ragazzi questa parte qui va avanti con il 14904 andiamo praticamente sopra questa zona quindi qui ovviamente capirete da soli che i livelli sono diversi altri tre di questi e andiamo avanti e qua stiamo creando la zona di smistamento io qua creerò uno scalomerci con una piccola stazioncina di linea molto carino che sarà appunto sopraelevato dalla parte bassa della città però questo tra poco ve lo farò capire allora qua andiamo invece con il 14939 ok questo e lo mettiamo qua guardate che bello poi abbiamo da quest'altra parte il 14938 che va a cogliere l'uscita della stazione questo qui poi abbiamo il compensativo di prima il 14903 da piazzare proprio qui e il 14927 che determina proprio la parte di chiusura qui in mezzo ragazzi faccio prima ci piazza un bel flessibile ok ecco qui tac e abbiamo risolto il problema questa è la zona della stazione chiusa e conclusa ok ora farei un bel lavoretto del tipo andiamo a mettere il 14939 anche di qua e mi sto creando il mio piccolo scalo guardate che bello ok qui facciamo un compensativo anche qui tac e poi qua vado avanti con 14904 per almeno 4 volte 1 2 3 4 ok tac tac ecco qua e ottengo il terminale che volevo ho anche il binario terminale che è questo qui il paracarro e lo mettiamo qua che determina la fine di questa zona poi abbiamo ancora da fare un'altra piccola aggiunta qui perché a questo punto si aggiunge un altro 14939 che è questo un altro scambio un piccolo 14903 di compensativo e il 14927 esatto a questo punto il 14904 ripetuto tre volte 1 2 3 li mettiamo qui 1 2 e 3 e concludiamo con il paracarro qui davanti ok e poi qua sotto abbiamo altri 2 14904 e il terminale e con questo abbiamo concluso questa parte qui della stazione ok andiamo a vedere come sta avvenendo intanto in 3D vedete come sta avvenendo ovviamente adesso voi avete un'idea di si è creato qua sotto un solco che tra poco andremo a coprire per creare appunto qua sopra un panorama vero e proprio di di base dove non si vede la parte sotto ma tra poco lo vedremo a questo punto non ci rimane altro che scendere con il nostro cerchio con dei 14910 ok e ce ne vogliono una bellezza di 8 pezzi quindi li prendiamo li mettiamo già pronti 1 2 3 4 5 6 7 8 e wow si parte da questa parte vedete con questa angolazione non andiamo fuori dal plastico e si comincia a sorpassare tutta questa zona per poi cominciare a scendere ok ecco qua qui ovviamente siamo a un livello alto di 6 ma qua ovviamente è arrivato il momento di cominciare a scendere nuovamente portando da qui arrivare qua sotto dobbiamo andare sotto questo punto il livello praticamente quasi a 0 anzi a 0 che ci permette proprio di di finire l'impianto questo qua ora io lo cambierei con un colore giallo mi piace di più esatto e andiamo a completarlo facendo l'aggiunta del 14904 ok andiamo qui cambieremo il livello man mano che scendiamo vi lo faccio capire qua siamo a 6 facciamo 5 e mezzo e così via ecco qua ragazzi io adesso ho portato avanti ho completato per non annoiarvi ho fatto tutta la parte di compilazione per quanto riguarda le pendenze e il risultato in 3D è questo vedete ragazzi poi magari farò un video apposito per chi non conosce in iRail come usarlo vi farò vedere tutti diciamo i trucchi e segreti per creare e realizzare le gallerie i viadotti eccetera eccetera in modo da avere un'idea un po' più chiara di quello che sarà il nostro plastico in questo punto qui in quest'area dove ci sarà la stazione ovviamente qua ci sarà la stazione e adiacente ad essa ci saranno degli edifici di città quindi strade stradine eccetera eccetera che ci inventeremo al momento e qua sopra ovviamente questa parte che voi vedete qui ci saranno le zone dei borghi con castelli borghi stradine eccetera eccetera e in questa zona qua invece ci sarà appunto una piccola stazione sopraelevata con qua una zona di ramificazione dove ci saranno appunto depositi fabbriche insomma vedremo cosa inventarci al momento da quest'altra parte abbiamo un'idea diversa di visione abbiamo una galleria che entra ed esce ed è visibile solo in questo punto con questa parte con la campata più rialzata dà quasi la sensazione del salto del montone anche se non lo è è insomma molto molto bello molto caratteristico ovviamente vederlo così ci crea già l'idea di come potrà avvenire poi nella realtà il nostro plastico ragazzi con questo è tutto spero di non avervi annoiato ma vi ho fatto vedere passo passo come ho creato questo progetto chiudo questo video dicendovi appunto che nel prossimo video dei Scala N andremo a vedere quanto costa realizzare questo progetto per la parte del tracciato e appunto poi magari di ingaggiare un compratore magari se c'è un compratore che ci sta ascoltando che ci sta seguendo e vuole comprarsi questo plastico già in anticipo contattandomi oppure semplicemente lo farò col tempo piano piano ragazzi con questo è tutto vi ringrazio per aver guardato il video ci vediamo al prossimo video mi raccomando ragazzi iscrivetevi al canale attivando la campanina lasciate il like e alla prossima ciao raga